Mi chiamo Pietro Barrera, sono il Presidente del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Scattistica Italiana. Rappresento circa 2.000 associati su circa 14-15.000 associati nazionali. Siamo la regione ovviamente numero uno in Italia sia per quanto riguarda la quantità sia per quanto riguarda la qualità e questo è anche un successo nostro personale. Parlo ovviamente a nome del Comitato Regionale. E rappresento 53 associazioni lombarde. Sì, c'è da dire che quest'anno con il 2014 avete avuto anche dei grandi successi. In particolare ne ricordo uno, c'è un ragazzino straordinario, lo vuol dire lei? Quanti anni ha? Perché io lo so, ma è una cosa straordinaria quello che sta succedendo. Allora, si chiama Fabiano Caruana, ha la doppia nazionalità perché è il padre americano di madre italiana. E' il numero due al mondo. Vorrei ribadire questo fatto. E' riuscito proprio in questo ultimo anno a salire alle classifiche internazionali Vincendo un numero notevole di tornei internazionali, lui è un grande maestro internazionale che è la massima carica di qualifica a livello internazionale. Partiamo dal maestro nazionale, arriviamo al grande maestro internazionale. Lui è il numero due e la federazione scacchistica punta molto sul successo di questo ragazzo a livello internazionale per far sì che la nostra disciplina, gli scacchi, vengano apprezzate a livello popolare. Un'altra cosa che voglio dire è che questo ragazzo sarà sicuramente uno dei candidati al titolo mondiale prossimamente. Se non lo sarà quest'anno, lo sarà l'anno prossimo al marzo del 2016. Il suo gioco è salito notevolmente, ha 18 anni e noi... Una speranza grandiosa per lo sport italiano. Una speranza grandiosa per lo sport italiano sarebbe il primo campione mondiale italiano. Quindi incrociamo le dita e facciamo gli auguri ai nostri spettatori per un 2015 buono. Sì, già i nostri successi di quest'anno ci hanno soddisfatto, sicuramente meritiamo qualcosa ancora di più. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Grazie.